Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo rosa, un diario intimo che accompagna chi affronta momenti difficili come la rottura e la rinascita. Questo libro offre riflessioni profonde, consigli pratici, e leggerlo può ispirazione, conforto e un senso di connessione con chiunque si trovi in un percorso di crescita personale o di superamento di momenti difficili. La trama del libro diario di un cuore infranto della scrittrice Sara Penso, servizio di autopubblicazione, è la seguente. Questo libro è la storia di Marco, della sua crescita come sportivo e come uomo, delle sue emozioni, delle sue gioie ed elusioni, del suo rapporto con gli amici, con i genitori e con il suo maestro di tennis, è la storia di uno dei tanti ragazzi appassionati di tennis che sognano di giocare un giorno a Wimbledon. Il torneo internazionale al quale Marco sta partecipando diventa così un primo importante risponso per capire se il suo sogno potrà diventare realtà. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.